computer e yoga. Una notizia adesso invece da Recco, Silvano Bortolazzi, poeta e scrittore di Recco, nonostante i suoi soli 38 anni, è stato insignito dell'onoreficenza di Cavaliere della Repubblica per meriti nel campo della letteratura, quindi un'onoreficenza anche abbastanza rara da questo punto di vista. Bortolazzi la scorsa estate era avanzato alle croniche per la candidatura al premio Viareggio Poesia. Adesso una comunicazione che riguarda invece noi, l'impedia tv, perché vi ricordo che